In viaggio con la carta, fra presepi e auguri di Natale, è il titolo della mostra visibile alla biblioteca della regione fino al 10 gennaio. L'allestimento, curato da Marisa Novelli, propone un vasto assortimento di presepi di carta, fotografie, oggetti, cartoline e pubblicazioni su uno dei simboli più tradizionali e coinvolgenti del Natale. Al termine dell'inaugurazione, l'attore Vanni Zinola della Fondazione Teatro Ragazzi di Torino ha presentato lo spettacolo Storie di Natale. La particolarità di questa mostra sono i presepi di carta. Posso dire che il presepio di carta è un mondo oramai sconosciuto, oserei dire scomparso, non si trovano più. Erano molto in voga negli anni 50 e 60, anzi erano biglietti d'auguri, venivano spediti. Era bellissimo anche riceverli, una gioia per i bambini e per tutta la famiglia.